C'è stato anche un convegno sul nuovo comprensorio escistico dell'Europia nell'ambito della manifestazione Neve Diversa svoltasi questo fine settimana in Alta Valle Seriana. Nel pomeriggio di sabato, presso la Sala Legrenzi del Museo di Arte e Storia di Crusone, il pubblico e gli esperti hanno dato vita ad una riflessione a più voci sulle prospettive di sviluppo dei nostri paesi montani, prospettive che vanno ricercate, costruite e condivise, promuovendo una maggiore consapevolezza delle risorse del patrimonio culturale del territorio, migliorando l'offerta turistica già esistente ed evitando distruzioni con altre piste da sci e altre seconde case. Ad una delle relatrici del convegno, Cristina Cattaneo di Seriana Ambiente, abbiamo chiesto quali sono le alternative al consumo di territorio ipotizzato dal comprensorio escistico, un consumo ritenuto colpevole di non modificare in meglio le condizioni di vita dei residenti e soprattutto di non dare futuro ai giovani montanari che investono in istruzione e cultura. Chi propone il comprensorio parla dell'unica via d'uscita per lo sviluppo della valle e per dare uno sbocco occupazionale ai nostri giovani, noi riteniamo invece che in realtà ci siano delle alternative, se ci sono dei fondi e sono pubblici forse vale la pena fare un discorso di più ampio respiro e pensare alle qualità intrinseca delle nostre montagne. Se cominciamo a proporre in modo creativo delle iniziative che possono andare dall'escursionismo a dei percorsi storici, possiamo anche pensare che i nostri giovani possano davvero dare vita ad imprese, a realtà virtuose che possano porsi in un rapporto con il territorio sicuramente più virtuoso, meno impattante e che dia maggiore garanzia per il futuro.